Settimo classificato finalista, Stefano Andreassic, complimenti. Grazie, sono contento, ho la mia prima esperienza. Nel day 2 avevo 6.000 chips, dopo una brutta mano sono riuscito a risalire, sono arrivato al final table. Come prima esperienza non posso chiedere di più. Ti abbiamo visto, sei un giocatore solido, quindi una struttura come questa premia i giocatori così. Sì, devo fare veramente i complimenti alla direzione perché il torneo è stato bellissimo, sia dal punto di vista dello stack che dei bui, della gentilezza anche di tutto lo staff. Sono contento di essere qui e di aver partecipato a questo torneo. Bene, quindi è un motivo in più anche per continuare a partecipare alle ISO. Certo, e infatti mi sa che parte della vincita sarà appunto parte del bankroll per rivederci al 10 maggio. Benissimo, il main event dal 10 al 20 maggio, una serie di 21 eventi, quindi l'imbarazzo della scelta. Non prometto il main, ma due, tre torneini è possibile che li faccia. Sarà un piacere rivedere Stefano Andreasic, ancora complimenti. Grazie.